Qual è il ruolo di CDP in questo momento sul mercato italiano? Casa Depositi e Prestiti sia attraverso Fintecna Immobiliare che alla fine del 2013 è stata acquisita totalmente da Casa Depositi e Prestiti SPA che tramite la propria SGR CDP Investimenti gestisce immobili con l'ottica dello sviluppo e della valorizzazione finalizzando gli stessi immobili al mercato. Il nostro ruolo fondamentalmente è quello di essere un ponte continuo, dinamico tra la pubblica amministrazione centrale o locale che ha necessità di portare avanti i progetti di sviluppo e di vendita intelligente, quindi di valorizzazione di cespi immobiliari e il mercato. Il mercato in questo momento è interessato all'Italia molto di più di quanto lo fosse soltanto un anno fa, però sta a noi CDP e gli altri operatori coinvolti riuscire a proporre un'offerta immobiliare di singoli asset che abbiano i requisiti e le caratteristiche degli investitori italiani e adesso molto interessati anche internazionali cercano. Grazie Grazie Grazie